Il consigliere comunale di opposizione Agostino Abate, su proposta del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, ha accettato la candidatura a sindaco di Agropoli e quanto emerso ieri mattina al termine di una riunione del partito di Giorgia Meloni, a cui hanno partecipato il commissario cittadino di Agropoli Claudio Pignataro, il coordinatore di zona Giuseppe Coccorullo, i dirigenti Cilentani Angelo Di Spirito e Modesto Del Mastro, il consigliere comunale Agostino Abate, il commissario provinciale Giuseppe Fabricatore, il responsabile provinciale agli enti locali Italo Cirielli, il responsabile provinciale all'organizzazione Alberico Gambino, la responsabile provinciale al tesseramento Imma Vietri. A presiedere la riunione il questore della Camera dei Deputati e coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Tale scelta si pone lungo due direttrici, la lunga storia di militanza e coerenza nel centrodestra e la consolidata esperienza amministrativa del consigliere comunale Agostino Abate. Ad Agropoli si legge in una nota di Fratelli d'Italia è arrivato il momento di votare prima dando voce ad associazioni, comitati civici, professionisti e semplici cittadini che in questi anni sono stati esclusi dal sistema di potere di centrosinistra targato Alfieri. Rilanceremo nei prossimi giorni come Fratelli d'Italia una fase di ascolto nella città ed avvieremo un confronto serio con tutti coloro che vogliono rappresentare realmente una seria e credibile alternativa all'attuale amministrazione comunale. Siamo già al lavoro per mettere in campo una lista forte e competitiva composta non solo da militanti e dirigenti di partito ma aperta ad espressioni della società civile agropolese. La riscossa della destra e del centrodestra è appena iniziata, termina la nota di Fratelli d'Italia.